Se viene alla casetta qua non c'è un cazzo di nessuno Non ci penso io a dargli un bel caloroso Benvenuto Poverino, neanche atterrato Se si vuole fumogene Ah ma stanno combattendo Ah, è morto Morto da solo Uii, buongiorno Buongiorno Lei che ha un'arma, sì, può morire? L'altro non me ne può fregare da meno Ok c'è un altro sopra, non entrare Non aveva l'arma Niente, ho bugato l'arma, si è bugato l'arma Non posso prenderla Passo solo presa Ti dà morto Sei entrato tu? Eh Non mi chiacca il tipo Stava scappando con la zappa in mano prima O dove sei? Aspetta Oh il Ben di dio Sono già morti in tre, in quattro qua L'ultimo dove cazzo sarà qua dentro? C'è ancora la cassa C'entra tutto il casino, qui c'è ancora la cassa Eh, vieni a prendere l'assalto C'è un tipo che è, vabbè, c'è un tipo Dov'è? Non riesco a uscire Cosa l'assalto? C'ho verde Dove scappi? Verso i proiettili? C'è eccolo agli alberi sotto la montagnola sta salendo preso a uno scudo sta costruendo è che non ho mira o meglio non ho proprio proiettili due proiettili va bene ha distrutto qualcosa a nord ovest sta salendo la casettina addirittura vabbè ha 100 di scudo porca puttana è ovviamente un cazzo ho sommato più proiettili che altro non l'ho neanche preso no c'è io a cazzo era un tuo scusa ti ridospo cosa? oh ma l'ho già preso o meglio ho preso direttamente l'arma sua al posto di ricaricare ah perché non ne ho lo stesso tanti vabbè ne ho 30 più 5 io ho due armi comunque 29 e 13 i caricatori vediamo se c'è qualcosa qua no infatti magari avevano lasciato questa buona proiettili altre proiettili fantastico sono una posta le case qui erano già state fatte? è cecchinata a mia sinistra ma non ho capito ah là sopra dove stanno costruendo 165 mal che è mio devi ruonere bene la tua capanna io non so state fatte neanche adesso ma non ma che non è dentro so però se no che qualcuno voglia restare qua un ottimo qua c'è solo un po' di munizioni eri a posto tu? ma si abbastanza io sono arrivato a 80 io 68 te hai munizioni per lanciagranate? probabilmente si no io ho raccolto 4 box di munizioni non me l'ha data neanche una ma mi sa che non c'è niente peccato ho due colpi da razza ok 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 qui tolle a auto a qui a 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 Grazie a tutti. 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 E mi sa che ci vede. Comunque c'è anche quello lì a destra che ha appena saltato sopra la montagna col pad. Qualcuno li sta andando a prendere. Ah, pensavo avesse fatto fuori questo qui. E tu? Ok, sono ancora sopra la montagna. Ah no, forse sta scendendo la rampetta. E' sempre stato ammordito. E' sempre stato ammordito. Cazzo è. Cazzo è. Ah, non c'è sbuio. Che puttana è in mezzo agli alberi? E' qui verso 165 comunque. Sì, è lì. È lì dietro. È avuto uno scheletro. Vai, ora. Sì, ma non è acquattato. Hai capito? Quello là sopra ha ammazzato questo qui. Sì, ma non è acquattato. Che cazzo ti è partita Amir? Eh non lo so, ma è partita su quando mi ha vibrato tutto. Buono. Grazie per aver seguito il video. Se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un mi piace e di condividere. Inoltre se non siete ancora iscritti vi ricordo di iscrivervi qui sotto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.